Prima seduta del Consiglio Comunale di Porto Cannone dove è iniziata ufficialmente l'era di Francesco Gallo alla guida dell'amministrazione comunale. Un primo giorno utile per espletare tutti gli adempimenti di legge come l'esame delle condizioni di elegibilità e compatibilità degli eletti con la convalida degli stessi. Poi il giuramento del sindaco con il passaggio della fascia tricolore dalle mani dell'ex sindaco Giuseppe Caporicci. Il primo cittadino Francesco Gallo ha poi illustrato i membri della giunta, il consigliere di legge, vice sindaco e la consigliera flocco assessore, ribadendo di voler affidare a tutti i consiglieri deleghe e incarichi di collaborazione compresi i candidati non eletti. Otto i punti fondamentali del programma, lavori pubblici, il piano di recupero per il censimento degli immobili fatiscenti, la sicurezza dei cittadini e del territorio, ma anche la gestione dei rifiuti, l'ambiente e l'agricoltura. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti rappresentanti del comune in seno all'unione dei comuni, oltre al sindaco sono stati nominati un componente di maggioranza ed uno di minoranza, che sono rispettivamente Serafino Bulmetti per la maggioranza e Antonio De Carlo. Per la minoranza, al termine della seduta, è stato organizzato un piccolo rinfresco all'aperto nel rispetto delle norme anti-covid per festeggiare insieme a tutta la cittadinanza l'inizio di un percorso politico con Gallo, sindaco e tutta la sua squadra.